Le gambe, ce le hai lunghe, cerca di raccoglierle e poi le distendi. Cattivo però. Pieghiamo. Pieghiamo, lancia a testa. Ok, vai, vai, vai. In alto deve andare. Prisci thc, a spainer. Quick è sperimentare cioè per capire lunghe, Esquerics d'epfasi dov'Inicali minuto un paese o чувствcare di lunghe che riguardi per reggiatri. Ecco questo Sü Hollywood, Grazie a tutti. Vai. È un po' più lento, è troppo veloce. Non si arriva la sappia. È un po' più lento. 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 Cerca bene dietro, caricare la gamba dietro, la destra che va indietro. È un po' più lento. 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 È un po' più lento.